Investimenti da record. E se vi dicessimo che nel 2022 il Comune di Vicenza prevede un piano di lavori pubblici per la mostruosa cifra di 66 milioni e mezzo di euro? Vero o falso? Beh, vero, anzi verissimo. Un tesoretto che non era mai stato messo insieme e che il sindaco Francesco Rucco con la sua squadra ha messo a bilancio grazie ai finanziamenti statali intercettati per cambiare faccia alla città del Palladio. Abbiamo avuto la possibilità di accedere a più di 50 milioni statali. Sono finanziamenti che sono destinati a particolari immobili. La maggior parte di questi vengono destinati al recupero del patrimonio immobiliare del Comune. Con queste cifre Francesco Rucco scommette sul 2022 come l'anno più importante del suo mandato da sindaco. Le risorse economiche svelano anche le priorità strategiche dell'amministrazione di Palazzo Trissino. Innanzitutto si investono 33 milioni e mezzo di euro sul patrimonio immobiliare, dalla riqualifica del villaggio Giuliano ai palazzi di edilizia e residenziale di Via Bonollo, fino ai padiglioni dell'ex Fiera, ai Giardini Salvi, che dovranno trovare una nuova destinazione per tornare a vivere. Più di 7 milioni e mezzo invece andranno ai beni culturali, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, l'Auditorium Canneti e 1 milione e 250 mila euro per il restauro dei portici di Monteberico. 6 milioni e mezzo invece andranno a strade e marciapiedi, ma anche sull'edilizia scolastica va registrato uno sforzo di 5 milioni di euro. Insomma, da oggi c'è un programma triennale dei lavori pubblici che certifica, cifre a bilancio, che Vicenza cambierà faccia, che la città del Palladio ha una nuova prospettiva che inizia un nuovo rinascimento. Questa amministrazione, dopo 20 anni, riesce a riportare un investimento sul territorio comunale che supera i 66 milioni, vuol dire portare anche, dopo due anni di Covid, tanta ricchezza, tanti soldi, tanti finanziamenti, che sicuramente, mi auguro, aiuterà molto anche le imprese cittadine, le imprese vicentine.